Terribile tragedia questo pomeriggio a casa Tenovo. Un bimbo di appena 10 mesi ha perso la vita in seguito a un arresto cardiaco accusato mentre era all'asilo Piripiri, nido aziendale della nota impresa di cosmetici Pupa. L'allarme è stato lanciato attorno alle 14.30. Il piccolo, figlio di una dipendente, sarebbe stato trovato privo di sensi da un'operatrice della struttura all'interno della sua culla. Subito è stato contattato il numero unico per le emergenze. Il bambino è stato soccorso dall'elicottero della REU proveniente da Como, giunto sul posto insieme a un'ambulanza e un'automedica. Nonostante le manovre per rianimarlo effettuate sia durante il trasporto che per 40 minuti all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, il cuore del bambino non ha più ripreso a battere. È morto poco dopo le 16. Sul posto, allertati dal 118, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Merate. I militari dell'arma stanno svolgendo accertamenti su quanto accaduto, informata la procura. Per favorire i soccorsi, purtroppo vani, è stato temporaneamente bloccato il traffico sulla provinciale 51.